Ciao, sono Valerio Novara. Oggi commentiamo i premi SAG o SAGA, che sarebbero gli Screen Actors Guild Awards, che sono dei premi che vengono dati annualmente da un sindacato di attori di Hollywood e che rappresentano, insomma, un buon indicatore per gli Oscar, anche perché negli ultimi anni parecchi attori che hanno vinto, parecchi film che hanno vinto tanti premi ai SAGA, hanno poi confermato le loro vittorie, in particolare i film hanno confermato le loro vittorie agli Oscar. Quindi oggi farò un commento, li scoprirò anch'io insieme a voi in diretta, ancora non li ho visti, perlomeno insomma ho letto qualcosa ma ancora non ho visto tutte le categorie e andremo a commentare insieme che cosa significano questi premi che sono stati dati, ricordiamo, nella notte fra domenica e lunedì e la cerimonia è stata trasmessa, pensate perfino sul canale YouTube di Netflix ed è la prima volta che viene trasmessa in diretta anche la cerimonia dei SAG che, insomma, ci portano, ormai manca poco, mancano due settimane, verso la notte degli Oscar e cerchiamo di capire anche cosa aspettarci in vista della premiazione degli Oscar del 12 marzo, di domenica 12 marzo. Allora, io li scopro qui insieme a voi, ho il mio bel computer, eccolo qui con tutta la lista, tutta la lista dei vincitori e iniziamo da, perché ricordiamo, i SAG danno sia i premi al cinema che alla televisione, iniziamo dai premi per il cinema. Miglior attore protagonista, ha vinto Brandon Fraser per The Whale, sono molto contento per Brandon Fraser, questa cosa, insomma, è abbastanza particolare perché dopo che avevamo visto che Austin Butler aveva vinto i BAFTA come miglior attore protagonista sarà una bella lotta, anche perché i candidati erano Fraser, Austin Butler, Colin Farrell, Bill Nighy e Adam Sandler, addirittura, per Aston, l'apparenza inganna. Ha vinto Brandon Fraser, The Whale, insomma, se ne sta parlando tantissimo, abbiamo fatto anche una piccola storia, il nostro Samuagli ha fatto una piccola storia di Brandon Fraser, come ci è arrivato a questo film, quello che ha passato nella sua vita, nella sua vita privata, e credo sia meritato questo premio, anche perché questi Samuagli sono premi dati da questo sindacato di attori che, insomma, si compone da oltre 4.000 persone, ma poi i votanti sono 120.000 attori. Quindi è molto indicativo per quello che succederà agli Oscar. Credo che in chiave Oscar, miglior attore protagonista, Brandon Fraser, possa dire la sua, ma occhio perché abbiamo visto a Golden Globe, Colin Farrell, Austin Butler, ai BAFTA, Austin Butler, e qui ha vinto Brandon Fraser. Quindi, attenzione. Miglior attrice protagonista, invece, ha vinto Michelle Yeoh, di Everything Everywhere, All at Once. Le altre erano Cate Blanchett, by Yola Davis, Ana de Armas, e Daniel Dedwiler. Michelle Yeoh va a, insomma, va a prendersi il premio come miglior attrice protagonista. Sono abbastanza d'accordo e mi aspetto che anche agli Oscar Michelle Yeoh possa vincere come miglior attrice protagonista, perché In Everything Everywhere tiene in piedi il film, insieme a Jonathan, anche Quan, però, insomma, fa una parte davvero pazzesca, mi è piaciuta molto un'attrice, prima attrice, eh, asiatica, tra l'altro, premiata in questa categoria, e, eh, e anche agli Oscar credo che abbia tantissime probabilità di vincere. Il testa a testa è con Cate Blanchett per Tar, però, insomma, insomma, qui sono gli attori che hanno dato il premio, quindi, Brandon Fraser, Michelle Yeoh li vedo molto favoriti come miglior attrice e miglior attore. Miglior attore non protagonista, anche qui, Jonathan Kekwan, Everything Everywhere All at Once ha vinto, gli altri erano Paul Dano, Brandon Gleeson, Barry Keoghan e Eddie Redmayne, per The Good Nurse, che invece non è candidato agli Oscar. Vince Jonathan Kekwan, le quote dei bookmakers per la vittoria di Kekwan come miglior attore non protagonista agli Oscar sono bassissime ed è quasi dato per scontato che possa vincere la statuetta in vista della notte degli Oscar. Miglior attrice non protagonista, e qui Jamie Lee Curtis, attenzione, anche miglior attrice non protagonista, il premio lo becca Everything Everywhere All at Once, le altre erano Angela Bassett, che invece è molto favorita anche nelle quote, che ha vinto, ricordiamo, il Golden Globe per Black Panther, Wakanda Forever, le altre erano Hong Chow, Carrie Condon, Stephanie Sue, sempre per Everything Everywhere All at Once. Jamie Lee Curtis, prima nomination agli Oscar, chissà, chissà, anche se qui Angela Bassett resta favorita, però è stata una sorpresa, sono contento per Jamie Lee Curtis, che insomma, è una grande attrice, da una poltrona per due in poi, attrice, insomma, che ci piace, che chissà, magari potrebbe battere la concorrenza di Angela Bassett, anche se in questo caso non credo che possa vincere l'Oscar, ha fatto una grande parte in Everything Everywhere All at Once, però, cioè, è anche, cavolo, gli danno tutti a sto film, gli Oscar, statemo a vedere. Miglior cast cinematografico, e questa è la categoria forse più importante dei sag, perché è quella che è il maggiore indicatore per il miglior film che verrà premiato agli Oscar. Significa, miglior cast messo insieme, miglior, miglior assembramento dei cast, se vogliamo, e in questo caso Everything Everywhere All at Once vince, gli altri erano Babylon, Gli Spiriti dell'Isola, The Fablements e Women Talking. Quindi, occhio, questa è una categoria che, per la maggior parte dei casi, dà molte indicazioni per chi vincerà l'Oscar. Ricordiamo che negli ultimi anni due film che si sono beccati questo premio, ma che hanno vinto parecchie statuette ai sag, come Parasite e Coda, lo scorso anno, hanno poi vinto come miglior film agli Oscar. Quindi, c'è da capire, insomma, se questo Everything Everywhere All at Once possa vincere, anche perché quarto premio ai sag, se non sbaglio, sì, questo è il quarto premio, i tre attori più miglior cast messo insieme, è la prima volta che un film vince quattro premi ai sag, non era mai successo, il record era tre premi, anche film che avevano ricevuto svariate nomination, e quindi, insomma, aspettiamoci che la notte degli Oscar sia contraddistinta da sto Everything Everywhere All at Once. Vi ricordo che c'è la recensione che ho fatto, la spiegazione del finale del film che ho fatto di Everything Everywhere sul nostro canale YouTube. Andiamo avanti, è carino perché i sag premiano anche le migliori controfigure cinematografiche e in questo caso ha vinto Top Gun, Maverick, gli altri erano Avatar, La Via dell'Acqua, The Batman, Black Panther e The Woman King. Mentre, velocemente, per la televisione, miglior attore in un film televisivo o miniserie, ha vinto Sam Elliot per 1883, miglior attrice in un film o miniserie, ha vinto Jessica Chastain per George e Tammy, miglior attore in una serie drammatica Jason Bateman per Ozark, mentre miglior attrice ha vinto Jennifer Coolidge per The White Lotus, miglior attore in una serie commedia ha vinto Jeremy Allen White per The Beer, bellissima, su Disney Plus, se non l'avete vista recuperatela, miglior attrice in una serie commedia, James Smart per Axe, miglior cast, carino anche qui, premiano il miglior cast in una serie, però drammatica, The White Lotus vince il miglior cast, mentre il miglior cast in una serie commedia ha vinto Abbott Eleventary, qui le migliori controfigure televisive invece se ne aggiudica Stranger Things, insomma, tanta carne al fuoco, tanto è They Sing Everywhere All At Once, non mi aspettavo il premio a Jamie Lee Curtis, sinceramente, e non mi aspettavo questo premio di beh, di Jamie Lee Curtis, perché Michelle Yeoh e Jonathan Kwan, ma anche il cast, miglior cast assembrato, come dico io, ci può stare gli altri film premiati e nominati, anche come miglior film, insomma, abbiamo Elvis, abbiamo Gli Spiriti dell'Isola, che è uno dei film che se la gioca parecchio, però qui è il cast che fa da padrone, cioè il cast che fa il film, ecco, è successo anche con Birdman, ricordo, quando vinse l'Oscar, vinse il miglior cast messo a scena, anche Parasite è quel film che viene premiato per la bravura di tutti, per la bravura di tutti gli attori che ne fanno parte e che quindi, insomma, ha grandissime chance di vincere l'Oscar. Staremo a vedere, intanto io vi do appuntamento a mercoledì primo marzo, faremo una live in diretta Natale 21 su YouTube e Facebook in cui faremo i pronostici ufficiali degli Oscar 2023 insieme a tantissimi ospiti di amici e pagine di cinema insomma che ci verranno a trovare sul canale di Ciac e Azione sarà una sfida a colpi di pronostico mentre il 12 c'è la notte degli Oscar ovviamente faremo la consueta maratona notturna. Io vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube Ciac e Azione se ancora non l'avete fatto attivate le notifiche siamo anche su Facebook e Instagram dove tutti i giorni pubblichiamo news e notizie che riguardano il mondo del cinema e delle serie tv al prossimo video e di iscrivervi al nostro canale e di iscrivervi al nostro canale